Vanna Marchi è un personaggio sicuramente di grandissimo talento, io glielo ho anche detto un giorno, lei poteva essere una grande attrice, del resto nel libro racconto anche lì, ad esempio racconto il suo rapporto con Gino Bramieri, Gino Bramieri la stimava, voleva portarla a teatro, voleva farle fare l'attrice di teatro, lei poteva essere appunto una grande attrice, Gino Bramieri la valutava moltissimo, lei stessa ha fatto una parte molto autoironica, molto simpatica, oltre a Lopez, Solenghi, Marchesini, quando lei fa la venditrice di alghe nella Milano del 600 dove è imperversa la peste, e lei vende le alghe agli appestati, è un episodio simpaticissimo. Ho trovato il copione di un film che voleva farle fare bevi l'acqua, un film devo dire peraltro piuttosto sconclusionato e sgangherato, dove lei doveva fare la bandissima, una storia di sesso, una cosa molto campata per aria, ho trovato le interviste che lei ha dato a grandi personaggi, a grandi giornalisti appunto negli anni 80, insomma lei è una persona di talento, persona di carisma, persona di fascino, persona che secondo me trattava molto male, molto duramente le casalinghe, che lei chiamava le ciabattone, ma perché lei a sua volta era una casalinga che ce l'aveva fatta, Vanna Marchi, dice sempre lei, 2, 9, 42, da Ozzano dell'Emilia, quinta elementare, e grida. È chiaro che in questo modo lei è già la casalinga che ce l'ha fatta, per quello dicevo lei interpreta una specie di made in Italy e di ascesa della piccola borghesia che piano piano si affaccia al davanzare del benessere, si arricchisce, entra nel centro commerciale, adesso andrebbe all'outlet, e lei è sempre al passo con questo mondo, lei cosa fa? Lo guida, lo interpreta, lo schiaffeggia, lo prende in giro e però in qualche modo ha la risposta, perché tutte queste persone, la casalinga tipo, ma non solo la casalinga tipo, si riconoscevano in lei. È chiaro che qui c'è un fenomeno di identificazione che solo un personaggio di grande talento, di grande carisma, di grande fascino può avere, perché chiunque può andare in televisione a dire quello che vuole, ma non fa nessun effetto, non ottiene nessuna comunicazione, invece lei la otteneva, aveva dei riscontri impressionanti e come dire, il pubblico le ha sempre dato ragione, perché poi io l'ho documentato nel libro a Ozzano, quando lei vendeva i suoi prodotti, avevano dovuto modificare l'ufficio postale di Ozzano, perché solo i pacchi che lei mandava in giro per l'Italia aveva intasato questo ufficio postale, hanno dovuto chiedere i rinforzi a tutti. Il personaggio poi è un personaggio molto duro, molto romagnolo, anche molto eccessivo, cioè romagnolo, emiliano, insomma, emiliano-romagnolo, non so bene Ozzano, comunque siamo vicino Bologna, vicino Imola, quindi emiliano, credo, però non so le distinzioni lì dove finisce l'Emilia, dove cominciare la Romagna, non ho mai capito bene. È però un personaggio molto forte, che colpisce moltissimo. È chiaro che in questo come dire andi e rivieni, continuo, tumultuoso, lei ha commesso moltissimi errori, poi ha perso un po' la mano, non ha capito cosa poteva fare, cosa non poteva fare. Poi lì dentro, lei dentro di sé, che è anche un dato, se vuoi, simpatico, aveva questa specie di rivalsa, perché lei in fondo era una, appunto, veniva da una famiglia poverissima ed era uno che ce l'aveva, come dicevo prima, che ce l'aveva fatta. Allora lei raccontava nella sua autobiografia un episodio molto, secondo me, chiaro. Un giorno che era sull'aero, che la hostess la riconosce, dice dove va a Vannamark? Lei dice vado a Cinecittà, perché lei aveva sfondato, ce l'aveva fatta. E questo, secondo me, in qualche modo la rendeva anche simpatica. Poi è chiaro che quello che è accaduto negli ultimi anni, questo disastro delle truffe, tutto questo pasticcio infinito che ha fatto con la figlia e con il donascimento, purtroppo è quello che è, e il resto è stato punito con nove passani di carcere. E quello è il lato più brutto, insomma, c'è poco da aggiungere, insomma, sono state decine di truffe, io ho visto persone disfatte, matrimoni disfasciati, padri contro figli, lacrime, pianti, malattie, speculazioni orrende su disgrazie, su malattie. Questo è l'altro lato, insomma, il lato peccato, perché, ripeto, lei era una figura che funzionava in televisione, capace di coinvolgere, capace di convincere, capace di trascinarsi dietro migliaia e migliaia di persone. Grazie a tutti.